Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV L'informazione locale Mangiano biscotte e la marijuana Madre e figlia però finiscono in ospedale Pesta a sangue la moglie Arrestato un boscaiolo Picchiata davanti al figlio di pochi anni Sanità Ceriscioli chiarisce la sua posizione Dopo le polemiche sulla delibera che riguarda l'ospedale unico Adesso c'è chi chiede le divisioni Sia del presidente della regione Che quelle del sindaco di Fanno Allerta maltempo Per sabato previsti venti di burrasca In tutta la regione Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Ben ritrovati Il nostro telegiornale questa sera si apre con la notizia Del ricovero in ospedale di due donne Madre e figlia che avevano assaggiato biscotti alla marijuana Prepara in casa dei biscotti stupefacenti E manda all'ospedale mamma e sorella di 45 e 20 anni È successo a Fanno per colpa di un impasto Contenente foglie di cannabis triturate E preparato dal figlio 22enne della donna Che ha cotto i biscotti e li ha mangiati insieme all'altra figlia Ai poliziotti hanno raccontato di aver assaggiato quei dolci solo per curiosità Ignorando i pericoli derivanti dagli effetti tossici Infatti poco dopo hanno accusato dei dolori lancinanti addominali Cefalea e vomito dovuti all'ingestione di droga Nell'abitazione della famiglia Gli agenti del commissariato di Fanno guidati da Stefano Seretti Hanno sequestrato mezzo chilo di biscotti Pesavano 10-15 grammi ciascuno E contenevano il principio attivo delle piante di canapa indiana Da cui si ricava la marijuana Il ragazzo è stato segnalato come assuntore di stupefacenti Alla prefettura di Pesaro E un boccone avvelenato potrebbe aver ucciso un lupo di tre anni Ritrovato morto in un bosco di Ombriana Nel comune di Mercatello sul Metauro Per questo sono in corso le attività investigative E gli accertamenti scientifici da parte del Corpo Forestale dello Stato Intervenuto sul posto con i veterinari dell'Asur Market Il personale del Centro Recupero Animali Selvatici E adesso prendiamo invece la pagina dedicata alla sanità Torniamo a parlare di un tema sempre più bollente in questi giorni In particolare dopo che il Movimento 5 Stelle di Fano Ha reso noto la delibera di giunta sul nuovo ospedale Oggi a chiarire un po' la sua posizione è stato e lo ha fatto il nostro microfono Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche Sentiamo Non è cambiato in realtà nulla Semplicemente la delibera di qualche giorno fa Ha spostato dall'azienda alla Regione La scelta perché nelle vecchie delibere Veniva indicata l'azienda Marche Nord come attore Mentre in realtà di fatto stiamo lavorando direttamente come Regione Così il presidente della Regione Luca Ceriscioli ha motivato la decisione di questa delibera Approvata dalla giunta il 22 febbraio scorso Ma di cui si è venuti a conoscenza soltanto mercoledì Dopo che il consigliere regionale Pier Giorgio Fabri Ne ha girato una coppia al Movimento 5 Stelle di Fano Questo documento ha scaldato gli animi dei vari partiti E lasciato stupiti i sindaci del territorio che non ne avevano avuto notizia Sarebbe un paradosso dopo dieci anni che ne discutiamo Vedere altre realtà che si mettono d'accordo e creano tutte le condizioni per realizzare E noi che siamo ancora a perdere tempo Ma io credo di tempo ormai ne sia rimasto poco Perché avevo preso degli impegni anche in campagna elettorale Ovvero quello di chiudere i vecchi progetti regionali L'ospedale di Fermo è stato appaltato Ci abbiamo messo 70 milioni E verrà realizzato il Salesi Che è un altro ospedale estremo importante Aveva avuto la conferma di fondi pochi giorni fa E siccome al terzo posto c'era Marche Nord Vorrei continuare con questa scaletta Non si torna indietro dunque sul nuovo ospedale E tra i siti rimasti in ballo E cioè Chiaruccia, Fosso Segliore, Case Bruciate e Muraglia Per ora non c'è nulla di definitivo Entro un mese poi Ceriscioli convocherà di nuovo i sindaci coinvolti Io sono convinto che tutti i siti selezionati fino ad oggi vanno tutti bene Quindi parto esattamente dal concetto opposto Che le differenze sono talmente minime Che non pregiudicano la scelta Però è giusto avere tutti gli elementi sui quali valutare Per poi chiudere rapidamente questo percorso Perché paradossalmente Mentre qua si continua a discutere Nel resto della regione stanno davanti un percorso analogo Ho voluto fortemente Ovvero quello di mettere insieme e aggregare le principali strutture Vale per la provincia di Macerata Vale per la provincia di Ascoli Piceno E devo dire che stanno prendendo questo impegno Con una certa determinazione Alcune comunità dicono che la regione non stia ascoltando le loro richieste Nel caso in cui ad esempio l'ospedale dovesse essere costruito Realizzato, ampliato insomma a Muraglia Loro si troverebbero in grosse difficoltà Ecco, terrà conto anche delle loro richieste Non esiste più il concetto o l'idea che ogni città possa avere il suo ospedale Se ne devi scegliere uno che deve servire per tutti Quindi con questo spirito bisogna affrontare Io vedo invece molto nel dibattito L'idea di ospedale mio, ospedale tuo Allora se più vicino alla mia città va bene Se più lontano dalla mia città va male Noi dobbiamo pensare a strutture che abbiano tutto quello che serve per la salute Prima di tutto, che siano quindi di alta qualità, che concentrino i servizi e le tecnologie Che siano ben accessibili, magari con un bel parcheggio attorno Facilmente raggiungibili da tutti i punti della provincia Questo è un po' lo spirito con il quale bisogna lavorare Bisogna proprio uscire da questa mentalità, chiamiamola di campanile E invece proprio avendo la possibilità di portare tutti questi progetti Alla visione, chiamiamola, degli amministratori Che sono un po' i protagonisti di questo percorso Dargli quegli elementi di valutazione Che aiuteranno a chiudere il cerchio E partire con la parte concreta Che è quella della realizzazione Per offrire un servizio veramente di grande interesse per la nostra comunità Dunque dicevamo di questa delibera Delibera che ha creato malumori Come abbiamo visto anche nei giorni scorsi E oggi c'è chi addirittura è arrivato a chiedere le dimissioni Sia di Luca Ceriscioli Ma anche del sindaco di Fano Massimo Seri Sentiamo perché La sanità naviga nel caos più totale E per ridare dignità alle scelte future Chiediamo le dimissioni di Seri e Ceriscioli È quanto si legge in un comunicato Dei consiglieri a 5 Stelle di Fano Che non accettano più di essere governati in questo modo Le motivazioni, spiegano, sono diverse Per il primo cittadino Perché non era nemmeno a conoscenza Delle decisioni prese dalla regione E non ha ancora emesso l'ordinanza promessa Per riportare la chirurgia H24 Le dimissioni di Ceriscioli invece Le chiedono perché il presidente Afferma che con la delibera del 22 febbraio Non si è deciso nulla sul sito E sulla modalità di finanziamento Dell'ospedale unico E invece secondo i pentastellati Il testo afferma in modo chiaro Che la giunta regionale Ha individuato il sito Per realizzare il nuovo complesso ospedaliero E cioè Fosso sei ore a lato pesaro A dare il suo parere sull'argomento È anche il vice presidente Del consiglio regionale Renato Claudio Minardi Ma la delibera secondo me Non fa nessuna confusione È di una chiarezza unica Probabilmente c'è qualcuno Che è interessato soltanto a fare polemiche Oppure non sa leggere le delibere Non c'è nessuna individuazione del sito Anzi Ci sono dei passi avanti La regione nella delibera Dice che L'opera sarà iscritta Nel piano delle opere pubbliche Della regione E siccome il presidente Come l'assessore del bilancio Hanno già dichiarato E ho fatto delle verifiche dirette anch'io Che ci sono le risorse C'è una volontà chiara e precisa Con gli atti Di andare avanti Quindi chi fa la demagogia Chi fa la confusione Chi prova a fare del caos Lo fa soltanto per visibilità politica Ma è tutto strumentale Qualcuno si aspettava che lei Desse notizie Insomma di questa delibera Che cosa risponde? Ma cosa devo rispondere? La delibera è una delibera così inocua E così scontata Che non c'era bisogno di comunicare Credo nulla a nessuno Perché era un atto formale Semplicemente una formalità Il sindaco di Fano Mi ha chiamato Quando ha saputo Gli ho chiarito immediatamente le cose Quindi il sindaco era assolutamente informato Di quello che nella delibera era scritto Il consigliere regionale di area popolare Mirko Carluni Ritiene invece che Ceriscioli Non abbia una strategia chiara Sul futuro della sanità Tant'è Si legge in una nota Che ancora nessuno capisce Che cosa abbia in mente il presidente Al punto che persino Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Sottolinea il suo stupore Davanti alla delibera approvata Non la conoscevo E sono in attesa di incontrare Il presidente Ceriscioli Per capire come vuole proseguire Del resto sono mesi che dico Che bisogna fare in fretta Perché la condizione della nostra sanità È molto complicata Sia all'ospedale di Pesaro Che all'ospedale di Fano Complessivamente all'azienda Marche Nord Non corrispondono alle esigenze Che il territorio ha Tant'è che la mobilità passiva Negli ultimi 5 anni È aumentata in maniera spropositata Ritengo fondamentale arrivare presto A un nuovo ospedale unico E pubblico Così come ritengo fondamentale Che si crei un ragionamento nuovo Con il privato convenzionato Perché la mobilità passiva Del nostro territorio Va verso l'Emilia Romagna E verso la Lombardia Sia verso ospedali pubblici Sia verso ospedali privati Convenzionati Cioè pagati con i soldi pubblici Dei marchigiani Abbiamo provato per diversi mesi Ad accordarci con l'amico sindaco Massimo Seri Non ce l'abbiamo fatto purtroppo Adesso la palla ce l'ha la regione Cercheremo di capire da Ceriscioli Come vuole muoverci Sperando che si riesca A muovere dei passi Il più velocemente possibile La Guardia di Finanza di Pesaro Ha deciso di aumentare i controlli Sul reddito di chi vive Nelle case popolari Sarà una stretta sui furbetti Che senza averne bisogno Hanno già ottenuto O chiedono un alloggio popolare O una sovvenzione Rubando soldi pubblici E per aumentare l'efficacia Dei controlli Sulla posizione economica Di questi soggetti Il comune di Pesaro Ha firmato un protocollo innovativo Con il comando provinciale Della Guardia di Finanza Lo scopo Come spiega il colonnello Antonino Raimondo Sarà quello di garantire Un'equità sociale Secondo i principi Di legalità E trasparenza Garantisce che chi ha Realmente bisogno Goda dei benefici Di prestazioni sociali Aggevolate Quale ad esempio Quella dell'edilizia Residenziale pubblica A scapito magari Di chi Ha cercato Con Artifizi Con raggiri Con dichiarazioni Mendaci Di approfittare E di utilizzare O di In prospettiva Per il futuro Di voler acquisire Un alloggio Di residenziale pubblica In maniera indebita Il comune di Pesaro Che è tra i primi In Italia A sottoscrivere Questo tipo di accordo Fornirà ai finanziari Un elenco di nomi Sui quali Si hanno dei dubbi In merito Alle dichiarazioni Autocertificate O alla documentazione Presentata In questo momento Di crisi economica Detto al sindaco Ricci Affiancato dall'assessore Delle Noci È anche compito Dell'amministrazione comunale Vigilare sugli sprechi E aiutare Chi è realmente In difficoltà Ogni risorsa pubblica Destinata A chi non ne ha bisogno È un euro rubato E invece Abbiamo bisogno Di destinare Le risorse pubbliche A chi ne ha realmente bisogno Ci auguriamo ovviamente Che non ci siano Tanti furbi Ma se ci saranno Sicuramente Attraverso questo protocollo Il lavoro che farà La guardia di finanza Verranno scovati E quella casa Non andrà più a loro Ma andrà a chi ne ha Realmente bisogno E chi magari È in graduatorio Dentro le quali Ancora non è riuscito ad entrare La risposta La risposta di sicilità Abita Una brutta notizia Di cronaca Pesta a sangue Entrati in casa Hanno trovato il tavolo Rovesciato Sono state riscontrato Sono state riscontrate Mare in accordo In accordo con l'ufficio circondariale Marittimo di Fano Si farà un'attività Di monitoraggio Sugli aspetti archeologici A questo scopo Il comune ha incaricato Un archeologo subacqueo Luigi Delbianco E il geometra Alessandro D'Angeli Di effettuare Le indagini Domenica Domenica 6 marzo Si celebra in tutta Europa La giornata europea Della logopedia Quest'anno L'attenzione È rivolta Alla Disprassia C'è chi è in difficoltà A vestirsi A parlare A leggere E a scrivere O chi invece Ha problemi di linguaggio E di elaborazione Del pensiero Questi sono solo alcuni Dei casi di disprassia Un disturbo Che colpisce Dal 3 al 6% Di bambini In età evolutiva E al quale Sono dedicate Le iniziative Di domenica 6 marzo La giornata europea Della logopedia Proprio domenica Ci sarà un convegno A livello nazionale? Si Domenica ci sarà Proprio a Roma Un convegno nazionale Proprio che tratta Questo problematiche Dove saranno presenti Dei relatori Di un certo livello A livello nazionale Internazionale Però pensate anche Di organizzarne uno Nel territorio Nel mese di settembre? Si Noi organizzeremo Nel mese di settembre Forse a Fano O in Ancona Per raccogliere Un po' tutti I logopedisti Tutte le persone Che vogliono Nelle marche Essere presenti Proprio su questa tematica Però il vostro Lavoro di informazione Dura tutto l'anno? Sì Il nostro lavoro di informazione Dura tutto l'anno Nel senso che Come settimana Questa è la settimana Che riguarda La giornata europea Della logopedia Che come giorno Il 6 marzo Però dura tutto l'anno Per cui noi Lasciamo a disposizione Un'email Che è quella Dell'associazione Log.alerensi Chiocciolalice.it Dove la gente Può fare Delle richieste Che non riguarda Soltanto la disprassia Ma anche problematiche varie Che interessano L'ambito logopedico Lunedì 7 marzo Invece Il Prendelvia Un corso Di formazione Dedicato a tutti coloro Che vogliono impegnarsi Nel volontariato Lo scopo di questi incontri Ad ingresso gratuito E organizzati Dall'Avuls Di Fano Hanno lo scopo Di aiutare Le persone in difficoltà Svolgendo compiti Di servizio Di animazione E di formazione Sanitaria Nuova allerta meteo Per la giornata Di domani Sabato Nelle Marche Un avviso di condizioni meteo avverse È stato emesso infatti Dalla protezione civile Delle Marche Che prevede Venti di tempesta Provenienti da sud-ovest Nelle zone montane Eventi di burascaforte Nel settore collinare Del centro-nord Della regione Sarà dedicata Alla donna La mostra pittorica Dell'artista Mauro Drudi Che verrà allestita Nella chiesa di Sant'Arcangelo Martedì 8 marzo Giornata appunto In cui si ricorda La donna Si chiama lei L'installazione Che l'artista romagnolo Mauro Drudi Allestirà Nella chiesa di Sant'Arcangelo A Fano E che verrà inaugurata L'8 marzo Alle ore 18 Nella giornata Della donna Due grandi pannelli Uno di fronte all'altro Che riproducono Lo stesso tema Il bellissimo volto Dell'annunziata Di Antonello Da Messina Riprodotta Più di 200 volte Su supporti diversi E con un'espressione artistica In stile pop art Alla Andy Warhol Dove lo sguardo Del visitatore Viene guidato Da una lunga fila di ceri E' una cosa Che è venuta per caso Non c'era un tema Sociale o religioso Alla base C'era una ricerca Artistica Puramente artistica E mi sono reso conto Che però questo volto E la traccia Che ho fatto di questo volto E' una traccia Quasi caravaggesca Cioè luce e ombre Basta Questo volto Ha una misticità Tutta sua Perché non ti guarda Negli occhi Ma guarda leggermente In basso Sulla tua spalla Quindi obbliga quasi Lo spettatore A entrare dentro il quadro E a guardare I suoi occhi E a vedere dove guarda lei Quando poi vedrete L'installazione Che è abbastanza monumentale Sono due edifici pittorici Lunghi 12 metri Circa 11 metri e mezzo E altri quasi 3 metri e mezzo E tutta in tarsio di quadri Che rappresentano Quella sinistra La donna negata o negativa Quella che non ha diritti Che magari Anche nella nostra società esiste Però Diciamo rappresenta Un po' più Una donna meno emancipata E da un'altra parte La donna apparentemente emancipata Però guarda caso Il volto è sempre lo stesso Come a dire Non fidiamoci delle apparenze Una mostra che dà a Fano Un'opportunità in più In una giornata particolare Che invita alla riflessione Sulla condizione della donna In maniera composta Ma allo stesso tempo Di grande impatto emotivo Sia per location Che per superfici scelte Un messaggio Che secondo me È molto intenso La costruzione di due edifici pittorici Dei pannelli molto vasti Con centinaia di repliche Della stessa opera Ma tutte diverse Che parlano della donna Nel positivo E nella negazione Che questa società Spesso le impone E quindi io credo Che sarà una installazione Moderna Che però fa Di una immagine Che rappresenta La donna per eccellenza La Vergine Annunziata In Antonello È di fatto un'icona Trasferita sul linguaggio Sul codice pop È una rivistazione Molto interessante E allora Prima di salutarvi Vi ricordo Che nella chiesa di San Giuseppe Al Porto A Fano Fino alle 18.30 Di domani Sabato Ci sarà La 24 ore Del perdono Con l'apertura Straordinaria Quindi solo Per l'evento Quindi per 24 ore Della Porta Santa Quindi Appuntamento Per chi vuole Come si suol dire Confessarsi Dalle 18.30 Di venerdì Alle 18.30 Di sabato Quindi compresa La notte Noi Fino alle 2 di notte In realtà Poi si riprende Alle 6 del mattino Noi ci fermiamo qui Grazie per aver seguito Occhio alla notizia Tra poco c'è Guarda chi c'è E poi Un filmato Un documentario Di 15 minuti circa Su Padre Pio Il Santo del Popolo Buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Autore dei sorrisi